Ciao a tutti, sono Silvia Lanotte, un'atleta di Milano, mi alleno presso la Thunder Gym. Sono campionessa europea e mondiale di K1 e Muay Thai. Mi alleno da anni e ho provato per la prima volta Reaxing Light, un metodo di allenamento innovativo per sviluppare le capacità neuromuscolari di reazione. Questo metodo basa quindi l'allenamento sul colpire le luci che si accendono al momento giusto. Il mio allenamento di solito è molto standard, semplice, questo ha complicato un pochino quello che faccio di solito. Quindi è un metodo molto divertente, dinamico, veloce per l'apprendimento e lo consiglio a tutti. It's time to react.